La Napoli che non ti aspetti emerge dal primo rapporto dell'Osservatorio Economia e Società, una città il cui tessuto imprenditoriale, fatto di realtà piccole e frammentate, è riuscita ad aumentare il proprio fatturato dal 2019 al 2023, contribuendo alla crescita del prodotto interno lordo, che si è attestato sui 28 miliardi di euro. Sullo sfondo nuovi e atavici problemi, come il calo demografico o la bassa percentuale di laureati rispetto a città come Milano e Bologna e che varia da quartiere in quartiere. Questi sono solo alcuni dei dati emersi durante la presentazione all'Università Federico II del primo rapporto Napoli. Tra i relatori, il docente Gaetano Vecchione, coordinatore dell'Osservatorio, Paola De Vivo, vice direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Baretta, e il rettore Matteo Lorito. A Napoli solo il 16% delle persone è laureato rispetto a Milano e Bologna, che è il 30%, ma per esempio Chiaia, Posiglio e Vomero hanno il 30% delle persone laureate, altre municipalità del centro storico invece è il 6% e il 7%. Quindi una diversità forte all'interno della città e il rapporto all'ambizione di da un lato raccontare con il rigore dei dati lo stato dell'arte della città, dall'altro anche di intravedere delle strade per gli amministratori. Un calo demografico che naturalmente preoccupa tutti e come università non vediamo ancora gli effetti perché siamo un'università attrattiva rispetto anche ad altre università del mezzogiorno e quindi questo colpirà soprattutto gli atenei più piccoli, gli atenei diciamo nelle aree interne. Ma poi c'è il tema della mancanza di giovani, perché se al calo demografico aggiungiamo poi di giovani che vanno a cercare e trovare lavoro fuori, è chiaro che la Campania che oggi è una componente giovanile importante, forse la più importante d'Italia in termini di percentuale, potrebbe diventare appunto una regione poi con un problema reale.